Qualche affanno nel primo tempo, nel secondo tempo probabilmente una Catania con un volto diverso, ci hai messo la firma, doppia soddisfazione, era importante in una partita come quella di oggi dopo la battuta d'arresto di sabato? Sì, l'unica cosa che contava è tornare a vincere, dopo come dici tu la brutta prestazione fatta sabato scorso a Potenza, ci siamo ricompattati, eravamo carichi, volevamo fare risultati a tutti i costi, credo che si sia visto, volevamo dare una gioia ai tifosi e dimostrare a tutti che comunque noi diamo il massimo e ci crediamo e lotteremo fino alla fine per raggiungere questo obiettivo. Se voi vi aspettate che noi entriamo in campo e distruggiamo gli avversari, vi sbagliate di grosso, le partite sono combattute, ci sono 11 giocatori che quando vengono a giocare nel nostro stadio sono carichi, perché giocare con una cornice di pubblico è sicuramente molto bello e quando giocano contro un ritorno è sempre il massimo, noi non direi che ci siamo stati addormentati al primo tempo, diciamo che abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, qualche verticalizzazione di troppo, però come dici tu siamo entrati tranquilli, consapevoli di poter vincere la gara e credo che abbiamo meritato.